Gentili telespettatori buona giornata. Antonio Socci ci racconta come non è realmente la Lega a creare dei problemi in questo governo perché quando nasce questo governo con Lega e Forza Italia come per la sinistra è come se fosse stata la continuazione del governo precedente con invito a Salvini e Berlusconi. In realtà non è la continuazione del governo precedente ma è un nuovo governo che era aperto a tutti. E così raccontava la sinistra che adesso Salvini creerà dei problemi, fa problemi. In realtà a cento giorni dalla nascita del governo Draghi si toglie quella cortina di propaganda e appare una realtà opposta a quella che per mesi i media, tutti i giornaloni e il PD avevano raccontato. Il grosso problema del governo non è la Lega ma il duo PD Movimento 5 e Stelle. Goffredo Berrettini, lo stratega dei Zingaretti, diceva non voglio usare una parola di accordi ma per l'accaduto del governo presieduto da Giuseppe Conte si è mosso qualcosa di più grande di Matteo Renzi. Non so realmente a che cosa si fa riferimento ma ieri Marcello Sorgi che conosce bene l'ambiente PD scriveva sulla stampa che il PD di Zingaretti e Bettini dopo la crisi di governo pur di bloccare Draghi si è adoperato fino all'ultimo per convincere Renzi al varo impossibile del Conte Terzo. Poi con il cambio di segreteria e l'arrivo di Letta si è voluta accreditare l'idea che il suo PD fosse diventato il più convinto sostenitore di Draghi, quasi il partito di Draghi. In realtà non è così, è evidentemente il contrario. Per idem Draghi è un avversario, forse più avversario di Matteo Salvini. Beh, dalla leadership di Letta che ci si attendeva una raddrizzata in senso filo Draghi di questo scivolamento del PD verso il radicalismo, eppure Letta sembra deciso a procedere in senso opposto. La demagogia sulla tassa di successione ha avuto una risposta secca di Draghi, non è il momento di prendere soldi ma di darli. Ma subito arriva la replica di Letta che tiene il punto e prosegue dicendo questi giorni io insisterò ancora di più perché bisognerà fare questa tassa, la metteremo nella prossima riforma fiscale ma questo governo, bisogna farlo subito. E così ormai lo scontro è aperto. Ieri bastava scorrere i titoli di giornali, Repubblica scriveva governo diviso sugli appalti, Landini scelta indecente, la CGL dice sciopero generale e la Paola De Micheli del PD che era ministro delle infrastrutture dice il PD non può consentire il ritorno del massimo ribasso negli appalti. Beh, insomma, poi la prima pagina del Fatto quotidiano che diceva Draghi di essersi preso i pieni poteri e dava voce ai malumori di certi ministri. Fa tutto lui, risponde a monosillabi, non ci considera, decide tutto lui. Così anche il vice del segretario del PD Provenzano dice non fa mistero di sentirsi libero di non riconoscersi pienamente in un governo guidato da un banchiere. E pensare che all'inizio Letta diceva di Salvini sta con un piede nel governo e uno nell'opposizione o dentro o fuori, lo ricordate? O dentro o fuori. Oggi invece si scopre che è il PD a dover capire se stare dentro o fuori. C'è proprio una sorta di contro Mario Draghi da parte del PD che deriva da una ragione più profonda, la paura di perdere il Quirinale, la paura di perdere le prossime elezioni politiche. Ma questo probabilmente è quello che potrebbe accadere. Quello di perdere le elezioni politiche è, diciamo, matematico. Quello di perdere il Quirinale, anche questo è quasi matematico perché la sinistra da sola non potrà scegliere il candidato, non potrà scegliere il presidente della Repubblica. Dovrà esserci l'accordo con il centrodestra. Quindi sul Quirinale non potrà decidere, ma dovrà decidere con gli altri. Alle prossime elezioni perderanno e lui vorrebbe che la realtà fosse differente, però non può farci nulla. La candidatura di Draghi al Quirinale, infatti, è sempre la più forte ed è stata rafforzata da questi mesi perché sta realizzando quello che aveva promesso. Recovery fund, vaccinazioni, quelle cose con cui Giuseppi si era impantanato in Europa. Da qui arriva poi l'irrigidimento del Partito Democratico che arriva proprio dall'atteggiamento sempre più estremista di Enrico Letta. Del resto il suo PD ora si scontra non solo con il governo ma perfino con Confindustria. Infatti il titolo del Sole 24 ore di ieri diceva licenziamenti, l'inganno di Orlando e addirittura con la chiesa bergogliana che pure non sarebbe avversa al PD. Insomma, diciamo che Letta è più interessato a piantare una bandierina di partito per conseguire un successo che ad approvare una legge buona. Perciò risponde picche a tutti e ordina i suoi di approvare il DDL ZAN, così com'è. Ecco, a lui interessa mettere delle bandierine per dire si è fatto come dicevo io, io sono il migliore, il più grande, io vinco, il mio partito è in testa, io sono l'antisalvini, il capo della sinistra. Insomma, lui cerca di affermare se stesso sia nel suo partito che fuori ma con delle cose veramente, assolutamente, dubbie. Così, questa è, diciamo, il modo di operare. E poi c'è anche il Movimento 5 Stelle che nel suo caos più assoluto criticano il ministro Cingolani, un tempo ritenuto di aria grillina, e addirittura il ministro delle politiche agricole, Patuanelli, dello stesso Movimento 5 Stelle. In questa confusione il centrodestra di governo appare oggi come il più solido punto di forza del Premier. Punto di forza è anche punto fatto da persone che propongono, persone che propongono delle cose, mentre dall'altra parte abbiamo sì persone che propongono delle cose improponibili. Ecco, Letta è l'uomo delle proposte improponibili. Dall'altra parte invece abbiamo proposte che Draghi può valutare se interessanti o no. Io vi ringrazio per avermi ascoltato, vi invito ad iscrivervi al canale, l'iscrizione è gratuita, siamo anche poi in Facebook, nell'altro canale di YouTube, Teleitalia Seconda Rete, e poi c'è anche l'abbonamento al canale con un euro al mese, poco meno di un euro e 99 centesimi, potete vedere dei video dedicati solo a chi ha questo abbonamento. Grazie a tutti e buon proseguimento di giornata.